Quindi io semplicemente dico che se questo è il ragionamento che si fa a sinistra evidentemente c'è qualcuno che in realtà vuole far brindare Salvini e Meloni perché si rinforzano gli altri schieramenti, quindi bisogna capire anche un po' da che parte si sta. Io ritengo che dire che in un seggio del genere non ci può stare un grillino perché i disastri che hanno fatto a Roma allora significa che ci sono altri che non dovrebbero neanche avvicinarsi nel raggio di 100 km a nessuna impresa italiana. Noi più che parlare di Renzi e Calendi, io le chiedevo perché Conte ha deciso poi di non candidarsi. Ripeto, io non conosco questo retroscena diretto nel senso che lei ha supposto una proposito della candidatura e ha supposto una declinazione. Resta il fatto che se non c'è un'unità, se non c'è un'unità di intenti in quello che era il percorso Conte 2 che senso avrebbe poi a quel punto candidarsi per spaccare o per creare difficoltà? Noi non siamo qui per creare difficoltà, vogliamo migliorare il paese, migliorare le cose, non certo ci muoviamo per una volta. Onorevole Sisto mi deve aiutare. Io non ho supporto.